ciao ragazze bentornate nel mio canale in questo video voglio mostrarvi cosa ho realizzato nella live di creiamo insieme con le perline per chi si fosse perso il secondo episodio della live della rubrica appunto creiamo insieme con le perline ve la lascio qui nel live informazione e anche in descrizione così potete riguardare tranquillamente la live realizzare anche voi il bracciale andromeda ringrazio annamaria per la scelta del nome perché è davvero favoloso e ringrazio anche tutte le persone che hanno visto appunto la live con me si sono divertite a guardarmi mentre sperimentavo con le samos delle perle sparpuca ho realizzato solo ieri ho terminato solo ieri il bracciale andromeda ed eccolo qui davvero molto particolare come bracciale questo è appunto tutto il bracciale ve lo appoggio qui sul piano da lavoro e come vedete non ho aggiunto gli enellini e la chiusura perché voglio fare ulteriori modifiche a questo bracciale ovviamente da un bracciale voglio farlo diventare altro quindi piano piano sperimentiamo insieme e ovviamente man mano che andrò a creare e realizzare un pezzettino della lavorazione poi vi spiegherò come l'ho fatto e vi mostro anche come realizzarlo vi spiegherò passo passo come trasformare il bracciale andromeda in un bellissimo collier la lavorazione al momento misura esattamente 18 centimetri vedete e sono esattamente undici moduli collegati sono 2 4 6 8 10 e 11 moduletti collegati una volta realizzato appunto questi undici moduli andiamo a realizzare ovviamente sia la parte qui in basso e sia i laterali per trasformare questo segmento cioè questo bracciale in una collana quindi realizziamo passo passo dei moduli che andranno posizionati in questi punti sempre ovviamente con cipollottini rocaille 11 0 e le samos delle perle spartuca rieccomi è trascosta una settimana e mezza da quando ho registrato l'intro di questo video pensando di registrare come ho detto inizio video pensavo di registrare appunto il tutorial per realizzare la collana il tutorial non l'ho registrato ma ho terminato ugualmente la collana e tra poco ve la mostro che è qui sul tappetino prima voglio dirvi i motivi del perché c'è stato questo diciamo questo cambiamento di programma il primo motivo credo che lo vedete già dalle dalle mie mani ho avuto un attacco pazzesco ho avuto uno sfogo pazzesco dovuto alle mie allergie quindi sinceramente mi vergognavo a mostrare le le mie manine in quelle condizioni pessime qui già si nota ancora qualche bollicina le ancora un po di rossori e diciamo che è migliorata la situazione rispetto magari a qualche giorno fa che erano proprio in condizioni proprio pessime e quindi mi ci vergogniamo un po a mostrarvele in video quindi perciò non ho registrato e secondo motivo è perché secondo me mi serviva anche un po di periodo qualche giorno di per ricaricare le pile mi andava sì ugualmente di creare sperimentare nella mia stanzetta e così poi ho terminato terminato la collana vi mostro la collana andromeda ed eccola qui mi sono davvero divertita a realizzarla e adesso vi spiego come l'ho realizzata sono partita come dicevo nell'entro dal bracciale creato appunto nella live di creiamo insieme con le perline per chi si fosse perso la live ovviamente ve la link o sia in descrizione e poi un piccolo appunto per le prossime live nel mio gruppo di facebook il club delle perline ho realizzato un post dedicato alle prossime live in modo così tramite il gruppo ci organizziamo per la prossima live su che materiale utilizzare a che ora farla il giorno e tutto così vi rimando direttamente al gruppo per per organizzare la prossima live di creiamo insieme volendo se riusciamo riesco a farla anche una in in settimana quindi se ci tenete a partecipare ad essere presenti mentre faccio la live vi rimando appunto al post del club delle perline ve lo lascio sempre in descrizione giù sotto per quanto riguarda la collana andromeda in dettaglio cosa ho realizzato in prime sono realizzato quattro moduli i quattro moduli sono questi il primo il secondo il terzo e il quarto modulo questi quattro moduli sono la stessa lavorazione utilizzata per il bracciale precisamente è il modulo quello dove è presente il cipollottino celeste centrale cioè questo che vi sto indicando adesso e quindi ho realizzato questi quattro moduli e poi li ho collegati qui alla parte bassa della fascia con altre rocaille e altri cipollottini e poi come vedete qui ho aggiunto queste rocaille l'ho realizzato anche in questo punto per collegarmi in questi punti alle due estremità di questa fascia poi sulla parte qui in alto ho creato queste ondine con rocaille e cipollottini per dare questo tocco di luce in più alla collana andromeda poi nella parte centrale ho aggiunto una navetta golden shadow incastonata al peyote e poi come sempre sia nei laterali ho aggiunto questi due modulini però messi in questo punto e poi collegandoli qui con tre cipollottini sempre turchesi poi come vedete ho aggiunto le gocce le gocce non possono mancare in nessuna collana e quindi ho aggiunto queste queste goccine ambrate collegate appunto con questa rocaille poi ho aggiunto la goccina la perlina per bloccare e poi le ho fissate così alla lavorazione per quanto riguarda i laterali della collana andromeda ho realizzato questi due segmenti vedete davvero molto carini questi due segmenti con cipollottini alternati e come chiusura ho optato per una sfera e annellini in acciaio la sfera è calamitata ed è davvero molto molto resistente volendo potevo anche realizzare una chiusura in perline ma non mi andava di appesantire ulteriormente la collana e quindi ho optato per una chiusura piccola a calamita come in questo in questo modo niente fatemi sapere se la collana andromeda è di vostro gradimento lasciatemi un like di supporto io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video vi lascio anche le immagini della collana indossata baci ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ed ecco qui la collana andromeda indossata cosa ne pensate io l'adoro ciao ragazze un bacio ciao 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 ciao